Allora questa è la ritmica che studieremo oggi al master, secondo anno, sono amplificato nel canale lead da una Friedman, poi c'è un chorus stereo nella triamplificazione 25-50 millisecondi e la ritmica è Lady Drag di Bon Jovi, una fantastica ritmica soprattutto per la leva del tremolo, molto power and forever. Il suono viene ripreso da un microfono elgato, credo, qua e il suono fa circa così. Grazie per la visione!